Una corona da loro davanti alla stele posta nel luogo della strage, poi la cerimonia presso il giardino della legalità di Capaci. A rendere omaggio alla memoria delle vittime della strage del 92, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'interno Matteo Salvini. Ad accoglierli il prefetto Antonella De Miro e il sindaco di Capaci. Oggi siamo qui in un clima di festa che potrebbe essere una contraddizione, ha commentato il presidente del Consiglio. Oggi è l'anniversario di una tragedia, ricordiamo questa giornata anche con la mia presenza, come un giorno di dolore. Però è anche una festa. Questa è la nostra forza, questa commemorazione è diventata la festa della legalità e questo è un colpo dal punto di vista culturale. L'anniversario è stato costellato di polemiche e defezioni con fratture nel fronte antimafia. Al centro della polemica la presenza del ministro dell'interno. Tra i volti storici dell'antimafia c'è chi ha invitato apertamente a boicottare l'evento, come il fratello di Peppino Impastato, Giovanni. Ampi arci Palermo hanno così organizzato una sorta di contromanifestazione alla casina no mafia di Capaci.